Non è buono e serve tant'uno di là Erano due tempi venuto male, guarda Ma tu dici puntare così per il signor Scampi Un po' così per la testa Sì, per la testa Io così con la testa devo farlo solo un po' e tre coda l'altro Non ti vennerà scambiata Ma ti vengono più robe con la 26? Con la 20 dovrebbe essere più facile Sì, dipende come ti trovi La 26 ti aiuta di più nell'altezza Io prima ce l'avevo la 20 E la quale è meglio Un po' la è meglio per te La 20 è più bella perché è più leggera e più maneggera Proprio un po' è stati liberati 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 Proprio un po' è stati liberati